Nuovo appuntamento questa sera in prima serata con il grande fratello VIP. A distanza di una settimana si conoscerà il nome della prima finalista donna di questa edizione. Il televoto vede in sfida Rosalinda Cannavò, Stefania Orlando, Giulia Salemi e Daiani Mello. Le quattro donne sono finite al televoto attraverso una votazione fatta dagli stessi concorrenti. E sempre in tema votazioni stasera stessa sorte toccherà agli uomini della casa. Si sfideranno al televoto tramite lo stesso meccanismo per arrivare a decretare chi di loro andrà dritto in finale. Non mancheranno poi le sorprese stando alla pagina Instagram del reality. In particolare Samantha De Grenet sarà protagonista di un momento molto emozionante che la coinvolgerà in prima persona. La settimana è stata densa di colpi di scena e i concorrenti hanno manifestato nuovamente perplessità sul prolungamento. Soprattutto la coppia Stefania Orlando Tommaso Zorzi che ha esplicitamente parlato di abbandonare il gioco proprio durante la diretta di questa sera. E proprio stasera i dubbi verranno dissipati. Ampio spazio alla coppia Pierpaolo Pretelli Giulia Salemi e il loro sentimento crescente che vede essere sempre più ostacolato dalla famiglia di lui, i fan di Elisabetta Gregoraci che hanno mandato messaggi per lei a dimostrazione che era la donna giusta per l'ex velino, e adesso anche da Abram Garcia ex flirt di Giulia in un precedente reality. Si darà poi diritto di difesa a Dayani Mello nella bufera per le frasi verso Tommaso Zorzi, spazio ad Andrea Zenga per prepararlo all'incontro con il padre, che a detta dei rumors dovrebbe entrare nella casa per un incontro con il figlio nelle prossime puntate e si vocifera sia di venerdì. Sempre venerdì ma questa volta il 29 gennaio per contrastare la nuova edizione del cantante mascherato su Rai 1 e la corazzata Millie Carlucci è previsto l'ingresso di Alda Deusanio, la giornalista sarà accompagnata dal suo inseparabile Pappagallo. Su Alda ancora non si conosce il ruolo se ospite per poco tempo o concorrente a tutti gli effetti, ma indiscrezioni la vorrebbero ospite o comunque uscire tramite televoto prima della finale, appuntamento pertanto questa sera su Canale 5 in prima serata.